Il favore è un vento che cambia sempre direzione. Inghilterra, XVIII secolo, la regina Anna è una creatura fragile, dalla salute precaria e il temperamento capriccioso. Facile alle lusinghe, si lascia influenzare dalle persone più vicine a lei, come l'astuta nobildonna Lady Sarah e il politico ambizioso Robert Harley, ma arriverà a corte a Abigail Masham, una lontana parente di Lady Sarah. Quale delle due donne riuscirà a insediarsi per sempre come favorita della regina? Il regista applica la sua visione nichilista a un trio tutto al femminile. La macchina da presa crea spazi compressi e claustrofobici, stritolando gli esseri umani in una morsa fatale. Le tre attrici fanno a gara superarsi in bravura e in perfidia, mostrando come brutalità ed efferatezza siano parte integrante e imprescindibile della natura umana. Grazie per la visione!